Ecco, ci troviamo con il Gioi Viaticus a Gerusalemme dentro la Basilica del Santo Sepolcro che tra le altre cose è anche il luogo in cui ci sono le ultime cinque stazioni dalla decima alla quattordicesima della Via Crucis. La fila che vedete è per l'ingresso a visitare la Tomba di Gesù.